Il futuro è Cuba. È l'arcipelogo dei Caraibi la nuova frontiera per le imprese del territorio napoletano. Le opportunità di commercio e investimento che si profilano per le aziende locali sono state al centro di un convegno organizzato da Eurosportello, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli, che ha invitato ad un confronto una delegazione cubana. In apertura dei lavori il presidente e il direttore di Eurosportello, Vincenzo Schiavo e Riccardo De Falco, hanno fornito numeri e dettagli sulle possibilità di sviluppo che si aprono a Cuba per le aziende napoletane. A Cuba arrivano oltre 85.000 imprese. A Cuba c'è grande interesse per investire in quel paese perché è un paese che sta crescendo. Ringraziando il signore in Campania, l'unico più che abbiamo e su quello che è lo sviluppo estero, abbiamo un più 9,50 di investimenti all'estero. Quindi stamattina con l'ambasciatore cubano proviamo un attimino ad avere delle opportunità sul paese Cuba e l'Eurosportello e la Camera di Commercio di Napoli assisteranno e coadveranno le imprese che andranno ad investire. L'Italia è un paese che intrattene da sempre relazioni commerciali importanti con Cuba, infatti in Europa per l'interscambio con il paese siamo il secondo insieme alla Spagna e l'Olanda, diciamo l'Italia è il paese che già ha una storica e importante relazione commerciale con Cuba. I settori economici di maggior interesse per le imprese locali, come conferma il Presidente dell'Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia-Cuba, Alessandro Senatore, sono biotecnologia e manifatturiero. Le aziende specializzate come quelle della biotecnologia, come quelle del settore del restauro della vanavieca, basti pensare che Napoli e Lavana sono due centri storici riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, ma non solo questi punti di eccellenza ma anche altri punti come per esempio quello del manofottiero, delle energie alternative, cioè tutti quei settori in cui anche a Napoli ci sono delle eccellenze. Ma tutto questo è possibile grazie al fatto che a Cuba adesso c'è un nuovo corso in economia, nel senso che il governo ha deciso di rilanciare l'economia.